A Parvero sulla scena 25 anni fa con la finalità di sostenere economicamente la cultura, l'arte e il sociale dei territori in cui le loro banche, dalle quali nascevano come costola, erano riferimento, sono le fondazioni bancarie dell'Umbria, ovvero quelle di Perugia, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Spoleto, Terni e Narni, che ieri hanno inaugurato a Palazzo Lippi Alessandri in corso vannucci a Perugia la mostra, un immenso bene Umbro nel racconto delle fondazioni di origine bancaria. Alla presentazione a Palazzo Priori il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha sottolineato la vitalità di queste fondazioni che in una sorta di proficua contaminazione stanno riscoprendo la loro vocazione e lanciando con mostre ed eventi un messaggio positivo in una realtà che affronta oggi i morsi della crisi. La vitalità, guardando ai 25 anni di storia, è dimostrata anche dalle risorse stanziate dalle sei fondazioni nel tempo e che raggiungono la considerevole somma dei 380 milioni di euro impegnati nei più diversi settori, sanità, ricerca, cultura, volontariato, istruzione, sviluppo locale, assistenza agli anziani e alle fasce più deboli. Quanto alla mostra, ogni sala ospita le opere finanziate, sostenute ed acquisite da una fondazione, partendo da Foligno e dalla sua passione tra contemporaneo e moderno, passando dal quattrocentesco Niccolò di Liberatore, detto l'alunno, alla calamita cosmica di Cino De Dominicis presso la chiesa della Santissima Trinità inannunziata a Foligno. La fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello è tutta nel Palazzo Vitelli a Sant'Egidio e nelle opere che conserva uno straordinario contenitore rinascimentale di cui in mostra viene presentato un plastico, ma non poteva mancare anche il figlio d'arte Alberto Burri. La fondazione di Spoleto, che tra le sue opere meritorie vanta il sostegno al Festival dei Due Mondi, porta in mostra Leoncillo, Orvieto, la pittura d'olio sul finire dell'Ottocento di Joseph Langle, ma anche Luigi Frittelli dei Macchiaioli Fiorentini. La fondazione di Terni e Narni ha selezionato nove quadri della sua collezione d'arte che conta oltre 1100 opere, tra dipinti su tela, acquerelli, disegni e sculture, tutte conservate nel cinquecentesco palazzo Montani Leoni. Si chiude con Perugia con il futurismo di Gerardo Dottori, cinquecenteschi per Indelvago e Luca Pacioli, quest'ultimo con due originali per la prima volta visibili al pubblico. C'è anche un pezzo della prestigiosissima collezione di ceramiche esposta stabilmente a Palazzo Baldeschi, altro immobile acquisito dalla Fondazione Perugina, dove è allestito il museo dedicato alla collezione Marabottini. Uno spazio è stato dedicato anche alla collana che comprende le tesi di laurea pubblicate dalla Fondazione nell'ambito del bando che dal 2005 premia i lavori di studiosi meritevoli con l'obiettivo di sostenere la ricerca su temi riguardanti la storia culturale ed artistica dell'Umbria.